Ben trovati ad un nuovo appuntamento col nostro TG Flash. Un sistema complesso e collaudato per sfruttare in modo illecito le opportunità fornite dal contratto d'impresa. Un sistema di frode fiscale raffinato che si snodava su tutto il territorio nazionale ma che aveva un'unica regia nella città di Catania. È quello che ha scoperto la Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine denominata Alto Livello che ha portato con due distinte ordinanze alla custodia cautelare in carcere per 5 persone, 7 persone agli arresti domiciliari, altre 4 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un sequestro complessivo di circa 29 milioni di euro. Le accuse, che valgono anche per altri 17 indagati, sono di associazione a delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione dei redditi, omesso versamento di ritenute previdenziali e dell'imposta sul valore aggiunto, autoriciclaggio nonché concorso nel riciclaggio di denaro illecito e dichiarazione fraudolenta. L'articolato sistema di frode sarebbe risultato alimentato dalla creazione di ben 14 reti di impresa di cui avrebbero fatto parte 37 società con funzione di distaccati, operanti in molteplici località del territorio nazionale e addirittura 439 imprese distaccatarie dislocate su tutto il territorio nazionale. Ne sono affette nel mondo 2 milioni e 800 mila persone. La sclerosi multipla di cui oggi, 30 maggio, si celebra la giornata mondiale in tutta Italia con i monumenti illuminati di rosso è una malattia demilinizzante cronica infiammatoria che colpisce in modo prevalente i giovani adulti e interessa il cervello e il midollo spinale causando una disabilità progressiva. La sclerosi multipla, come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità, è una malattia cronica causata da una risposta anomala del sistema immunitario che provoca l'infiammazione e danneggia i neuroni e la mielina. Una malattia cronica che può manifestarsi con sintomi anche molto diversi tra loro, che dipendono dall'entità e dalla serie della lesione nel sistema nervoso centrale, può esordire ad ogni età della vita, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. I dati evidenziano anche che il numero di donne con sclerosi multipla è quasi il triplo rispetto agli uomini ed è più diffusa nelle zone lontane dall'equatore a clima temperato, in particolare Nord Europa, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia del Sud. La prevalenza della malattia al contrario sembra avere una progressiva riduzione con l'avvicinarsi all'equatore. Una malattia che non ha ancora una cura definitiva nonostante ad oggi sono disponibili diverse terapie in grado di rallentare la progressione della malattia e gestire i sintomi. La giornata di oggi rappresenta un'opportunità per favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, associazioni, medici e cittadini al fine di comprendere le sfide affrontate dai malati, dai loro familiari e dai carkeeper. È partita ufficialmente la campagna antincendi in Sicilia, le attività da mettere in campo nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 ottobre sono state messe nello subianco ieri pomeriggio nel corso di un incontro alla prefettura di Catania, al quale hanno preso parte, tra gli altri, sindaci e rappresentanti dei comuni della provincia, i vertici delle forze dell'ordine del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato Dipartimentale Foreste e del Dipartimento della Protezione Civile Regionale. Tra le misure pianificate, le opere di scerbatura dei terreni privati e l'acquisizione di autobotti da parte dei comuni, potenziato il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nove nuovi moduli antincendio, dislocati in altrettanti comuni della provincia in aggiunti ai 29 già esistenti. Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima edizione. Sabato 1 giugno. Alle 20.45. Annati in Sicily Show. Ci sarà. Speciale musica popolare. Seconda parte. Canale 77 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.